Sicuramente come tutti gli anni il Golden Gala è super emozionante avere una gara del genere in questo stadio in Italia. Per noi atleti è un'emozione dove possiamo misurarci con altri atleti fortissimi. Stasera non sono arrivato sul bodio ma sono riuscito a fare il record italiano quindi sono contentissimo. Mancava il tifo però dai, prima di tutto la sicurezza e ci rifacciamo magari l'anno prossimo. Non l'avevo annunciato perché volevo stare tranquillo senza mettermi pressioni addosso però il mio obiettivo era venire a fare una bella gara e soprattutto provare a fare il record italiano. Sono riuscito per un po', ho sfuggito all'ultimo giro visto che non ce la faccio, ho detto invece ce l'ho fatta e sono contentissimo di chiudere, di come si sta chiudendo la mia stagione. Le d'accordo sono fatti per battere e spero anch'io di continuare a battere i miei e diciamo crescere. No sicuramente se c'era il pubblico avrei fatto qualcosa in meno ma comunque sono sicuro che da casa mi hanno urlato e mi hanno seguito in tanti. I capelli biondi si portano bene? Ah sì, mi portano bene. Adesso li ricoloro per l'anno prossimo e li rifaccio biondi. Grazie.